Cari fratelli e sorelle, il 14 dicembre celebriamo la memoria di San Giovanni della Croce, che con la testimonianza della sua vita e le sue opere letterarie, specialmente la salita al Monte Carmelo, ci aiuta a capire e a mettere in pratica quelle parole stupende di Gesù quando rivolto ai suoi discepoli li invitò a non preoccuparsi di cosa avrebbero mangiato e di come ci fossero vestiti, ma di cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto a Dio lo avrebbe dato in aggiunta. Giovanni ci aiuta a capire come c'è importante abbandonarsi all'azione dello Spirito Santo che ci libera progressivamente da tutto ciò che è superfluo per fondare la nostra vita sull'essenziale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.